Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Non lasciate che questa situazione di emergenza in cui ci troviamo fermi la vostra voglia di imparare. Sono Alessandra Mascellaro e sono una studentessa del terzo anno del corso di laurea in scienze della mediazione interlinguistica e interculturale. Per me studiare all'università in Subria significa trasformare tre anni di formazione universitaria in un'esperienza di vita nel campo dell'interazione, collaborazione e convivenza con lingue e culture diverse. Mai come in questo momento siamo stati attenti a ciò che ci manca. Proprio per questo motivo dovremmo accorgerci di cosa possediamo, chi vogliamo diventare e perché vogliamo distinguerci. Studiare all'insubria sarà il vostro inizio, continuare il progresso e realizzarvi dopo la laurea il vostro futuro successo.